E' bello perchè qua è pieno, dilaccio in poca gente, vuol dire che è positivo Avete guardato tutti? Esatto E' positivo, anche chi è di là sta guardando, ma più che così, grazie Grazie davvero Stanno riguardando tutti E' l'ultimo, che è la strella sorella Forse, sì Se avevamo fatto un'altra strezzata nella scaletta, sì No, 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 no Chiamerei sul palco Come altro, un grande trattante, un grande emergentissimo, sono giovanissimo Questo è Davide Sorrisi dai Romisai Ragazzi, questi ne hanno fatti un disco, che quando... Cosa c'è? 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 Il pezzo che vi andiamo a fare al nuovo disco of Said of the Search si intitola Nevermore Alla prossima 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 Alla prossima